Il biodigestore di Talacchio non sa da fare. A mettere la parola fine sul nuovo impianto anaerobico capace di trattare 105.000 tonnellate di rifiuti, ci ha pensato la giunta comunale di Vallefoglia, che si è detta contraria agli sviluppi del progetto nato sei anni fa. All'epoca Ucchielli era il suo secondo anno di mandato come sindaco della sua città, e sempre in quell'anno e in quelli successivi prese piede l'idea di un impianto integrato di biodigestore di compostaggio di rifiuti, che sarebbe dovuto sorgere a fianco della zona industriale di Talacchio, pari ad un'estensione di circa 40.000 m2 su 12 ettari di terreno in cui viene coltivato grano. La struttura, progettata dalla società Green Factory e da Marche Multiservizi, avrebbe trattato rifiuti prodotti da abitazioni, bar e ristoranti, ma anche scarti di potatura e sfalci d'erba. Ora però, a causa dell'esclusione di asset dal progetto e altri impianti simili approvati nella regione, come quello di Barchi, seppur in dimensioni ridotte, ha portato definitivamente la giunta comunale di Vallefoglia a scuotere la testa. Era partito sei anni fa, votata all'unanimità che il biodigestore di quella dimensione si sarebbe fatto a Fano per tutta la provincia. Si sono persi sei anni di tempo, si è fatto tutta una serie di polemiche a Fano, a Canavaggio di Urbino, poi a Vallefoglia, e poi la novità, per la quale noi abbiamo detto seccamente no, è che sono stati autorizzati due biodigestori, uno a Barchi e uno a Fermo, quindi non ha più senso, è cambiato lo scenario, anzi io penso che Marche Multiservizi farebbe bene a ritirare quel progetto che non è più d'attualità, perché sono raddoppiati i costi, perché non è più conveniente. In verità noi non avevamo mai detto che eravamo d'accordo e quindi abbiamo detto che di fronte a tutto ciò che di nuovo oggi non ha più nessun senso e quindi sarebbe opportuno ritirare quel progetto e magari Marche Multiservizi dialogare con Fano, con gli altri impianti già autorizzati.